E' arrivato il momento della prima delle tre relazioni, il primo dei tre eventi più formali e chiamo sul palco il professor Romanto del liceo Einstein di Palermo. Professore, venga su. Colonna portante della settimana di studi danteschi. E saremo insieme qui e, come mi ha appena detto, sarà felice di prendere alcune domande alla fine del suo intervento. Allora, come voi sapete, il titolo di questa ventitresima edizione è costituito dal verso 100 del ventisesimo canto dell'inverno, il canto di Ulisse. Ulisse risponde a una richiesta di Virgilio raccontando l'inizio del suo viaggio. O meglio, questo è l'inizio del viaggio che Ulisse racconta. Voi sapete che nel Medioevo il viaggio era metafora della conoscenza, di un percorso di conoscenza. Quindi Ulisse ci sta raccontando un cammino verso l'acquisizione di determinati contenuti. Ma misi me, forse, ma misi me per l'alto mare aperto, fischia. Scusate. Allora, che significa ma misi me per l'alto mare aperto? Allora, navigare significava, nel Medioevo abbiamo detto conoscere, è la metafora della conoscenza. Ulisse intraprende questo cammino, questo viaggio. Il mare è, la conoscenza deve essere, il messaggio che ci trasmette l'autore, la conoscenza deve essere alta, deve mirare verso l'alto. Ma se noi pensiamo al mare, l'aggettivo mare, l'aggettivo alto, diciamo, accanto al sostantivo mare, ci fa pensare anche alla profondità. Quindi la conoscenza deve essere anche profonda. Mirare verso l'alto è entrare in profondità. E soprattutto deve essere aperta, mare aperta. Aperta significa una conoscenza che non preclude, cioè che non si chiude a nessuno stimolo, da qualunque parte esso provenga. Ma già Dante, tante altre volte, aveva espresso un congetto analogo. Se vi ricordate il sonetto Guido, io vorrei, che era composto proprio nei primi anni, forse, della giovanile di Dante. Guido, io vorrei che tu, Lapo e Dio, fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento, quindi messi in un vasel, cioè navigassimo insieme in un vasel che ad ogni vento per mare andasse, al volere vostro e mio. Quindi anche qui tutti i venti, quindi tutti gli stimoli, debbono contribuire a un percorso di conoscenza. Nel decimo libro dell'Etica Nicomachea, Aristotele, ci indica due percorsi possibili, percorsi di conoscenza che conducono a delle condizioni esistenziali. Il primo percorso viene chiamato, cioè la meta del primo percorso è Bios Practicos, Aristotele le chiama così, Bios Practicos, che tradotta significa vita attiva. Che cosa significa? Che cosa ci vuole dire Aristotele? E che tra l'altro poi è ripreso da tutta la cultura occidentale, compreso Dante, che nel convivio esplicitamente lo esprime tantissime volte. Che cosa ci vuole dire Aristotele? Che all'uomo è possibile una condizione di benessere, in altri termini di felicità. Questa condizione si realizza quando l'uomo riesce ad equilibrare la sua componente istintiva con la componente razionale. Nel senso che non la ragione domina l'istinto, perché se ciò avviene è la nevrosi, ma né tanto meno l'istinto domina la ragione perché è uno stato confusionale, diciamo bestiale. Le due facoltà devono armonizzarsi, per così dire come la ragione diventa quasi istintiva e poi l'istinto diventa razionale. Ora, se voi pensate questo percorso, il personaggio Dante, nella commedia, lo fa nella prima parte del cammino. Quando lui, portato da Virgilio, arriva in quello che viene descritto come paradiso terrestre, lì il personaggio Dante acquisisce un equilibrio tale, ieri il professore Mangusa aveva parlato proprio di una possibilità raggiunta per cui l'arbitrio diventa libero, libero, dritto e sano, gli dirà Virgilio, è tuo arbitrio, la tua capacità discrezionale, adesso è libera, dritta e sana e fallo for a non fare a suo senno, prendi il tuo piacere per duge, cioè tutto quello che l'istinto ti spinge a desiderare, prendilo ormai come guida. E addirittura poi finisce con quelle parole straordinarie, quasi lo investe, come il re nel Medioevo investiva nei cavalieri, dicendogli ed io sovra te corono e mitrio, ti do la corona imperiale e la mitra papale, perché da questo momento in poi tu sei imperatore e papa di te stesso, cioè non devi ubbidire, che è quello a cui ognuno di noi aspira, non devi ubbidire a nessun'altra autorità se non alla tua coscienza. Allora, come vedete, questo tregitto, diciamo, descritto da Aristotele, Dante lo descrive in forma allegorica nella prima parte del suo viaggio. Aristotele parlava pure di un secondo tregitto ancora migliore per l'uomo e Dante riprendendolo nel convivio dice il primo, quello della vita attiva, è buono. Questo secondo, che Aristotele aveva chiamato bios theoretikos, teoria in greco significa visione, guardare, quindi contemplazione, tradotto infatti tregitto della vita contemplativa, questo tregitto dice a Dante il primo è buono, questo è ottimo. E il personaggio Dante, nella commedia, farà questo tregitto nella seconda parte del suo viaggio, quando dal paradiso terrestre inizierà ad ascendere, attraverserà i geli, grazie a un personaggio che si chiama Beatrice e che molto probabilmente è personificazione allegorica non della teologia o della rivelazione ma come sosteneva il nostro conterraneo già nel 1865 di un discorso di carattere filosofico, cioè è quello che Aristotele nel terzo libro del De Anima aveva chiamato intelligenza attiva, cioè è la luce nell'ambito della sua teoria della potenza e dell'atto è la luce che illumina l'indelletto del singolo e gli consente di indelleggere, cioè di passare dallo stato potenziale a quello attuale. Era una sostanza reale nella quale sia Aristotele che molti filosofi della cultura occidentale fino ad Alberto Magno che probabilmente è il maestro a cui si ispira appunto Dante postulavano. Allora se questo è e io credo diciamo che sia così Beatrice è la luce dell'indelletto del personaggio Dante che dopo aver raggiunto quell'equilibrio di cui abbiamo detto interprete questo viaggio attraversa l'universo. Questo viaggio consiste di cui aveva parlato Aristotele questo percorso consiste nell'indelleggere le cose nell'andare indus legit l'indelletto è come l'etimo ci suggerisce legge dentro ma dentro in che senso legge dentro? La ragione che si distingue appunto nella loro cultura si distingue dall'indelletto la ragione ci fa vedere le cose come sono cioè ci fa conoscere gli uomini l'indelletto invece loro pensavano che ci facesse conoscere l'essenza degli esseri quindi l'essenza dell'uomo ci fa capire qual è l'elemento costitutivo fondamentale dell'essere umano ma non soltanto degli uomini di tutto del cosmo e addirittura di quel principio di quel punto Dante lo chiama appunto che per l'universo si squaderna cioè l'indelletto può far sì che io mi congiunga Dante lo dice nell'ultimo canto dice congiunzi l'aspetto mio col valore infinito cioè mi congiunga con quel punto l'indelletto mi consente di congiungermi con quel punto e se io mi congiungo col valore infinito divento infinito di capirlo e se lo capisco significa che lo contengo e se lo contengo anche io divento Dio Dante nel quarto libro del convivio dice che all'uomo è possibile questo percorso perché si diventa e cita Agostino quasi un altro Dio ingarnato allora la teoria cioè la contemplazione della verità porterebbe a questo a far sì che l'uomo possa diciamo capire le cose più profonde per quanto riguarda l'essere umano cioè spiegarsi se io capisco l'essenza dell'essere umano capisco qual è il senso dell'uomo do la risposta a quelle domande che gli uomini da sempre si sono posti qual è il senso della nostra vita da dove veniamo dove tendiamo e loro pensavano che l'indelletto lo consentisse questo lo consentisse quindi un percorso diciamo l'ultima parte del viaggio dandesco è in questo senso è allegoria di questo viaggio che porta l'uomo il personaggio Dante alla conoscenza essenziale del tutto fino addirittura del principio del tutto di quel punto che per l'universo si squaderna allora questo è quando avviene per il personaggio Dante e se per il personaggio Ulisse ci fosse un richiamo un parallelismo vediamo di dimostrarlo voi siamo nell'ottava bolgia dell'ottavo canto dall'alto vedono questi fuochi che si muovono Virgilio spiega che ci sono dentro delle anime dentro questi fuochi Dante è colpito da un fuo da una fiamma in particolare che è biforcuta bifida con due punte una punta più alta dall'altra e allora chiede e Virgilio gli dice che lì si nascondono le anime di Ulisse e di Diomede sentito ciò Dante esprime un desiderio grandissimo di parlare soprattutto con Ulisse le parole che avete sentito poco fa mai tanta intensità ha espresso Dante di voler parlare con un personaggio neppure nel paradiso con nessuno ti priego maestro e ti ripriego e il mio priego vaglia mille che mi faccia parlare con quest'anima è strana questa cosa qual è il senso per quale motivo Dante prega non chiede prega Virgilio di poter parlare con con questo personaggio con Ulisse vediamo se alla fine possiamo dare una risposta ma la risposta di 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 Virgilio è tanto strana la tua la tua preghiera è degna di molta loda cioè bravo tu mi preghi di una cosa e io ti dico bravo ma che senso ha cioè bravo complimenti anche qui è apparentemente spiegabile questa risposta di Virgilio alla fine vediamo se ce la spieghiamo però poi aggiunge Virgilio ma lascia parlare me perché sono gregi e forse sarebbero schivi del tuo detto è chiaro che si capisce subito che è un pretesto e anche qui ci sarà un senso allora Virgilio chiede voi potete prendere il testo così leggiamo andiamo avanti col testo Virgilio chiede qual è vuole sapere dal personaggio perché ha induito quello che vuole ho congetto alla tua preghiera l'ho capito il senso della domanda della preghiera di Dante allora chiede al personaggio il tragico epilogo della sua vicenda perché per i ragazzi che non l'avessero ancora fatto questo Ulisse questo Ulisse dantesco non ha niente a che vedere con l'Ulisse omerico che loro conoscono l'Ulisse omerico lascia dopo si è allontano finita la guerra con varie peripezie poi alla fine ritorna nella sua terra ad Itaca perché lui sogna i comignoli della sua terra questo Ulisse invece di cui ci parla Dante è una creazione sua probabilmente avrà avuto qualche spunto dico però è totalmente sua ed è completamente diverso dall'Ulisse omerico allora Virgilio gli chiede il tragico epilogo dove per lui ad uno di loro al maggior corno dove per lui a morir gissi dove andò a morire bellissimo poi lo maggior corno della l'ha letto poco fa Alice della fiamma antica questo muoversi questa fiamma che si muove e che si muove come fosse la lingua che parlasse e a un certo punto comincia quando mi dipartì tra l'altro splendido questo quando c'è un enjambaman mi dipartì da Circe quando si diparte quindi comincia a raccontare l'inizio del suo viaggio quando si diparte da Circe e quando si allontana da Circe Circe era come voi sapete una maga che trasformava gli uomini in maiali in bocci e il maiale non è diciamo per eccellenza non è rappresentazione per eccellenza dell'istinto dell'istinto che prevale su ogni componente razionale il personaggio quindi Ulisse parte da Circe possiamo dire da una condizione di istinto ma il personaggio Dante non va a una cosa analoga da dove parte Dante qual era la condizione di partenza da una selva oscura nel mezzo del cammino eccetera da una selva oscura quindi possiamo dire che Circe e la selva oscura potrebbero rappresentare la stessa cosa allora potremmo dire da questo momento in voi che i due personaggi Ulisse e Circe sono speculari speculari significa l'uno speculum dell'altro come se fossero l'uno specchio dell'altro e questa cosa l'aveva notato già Pagliaro e poi la riprende Maria Corti però agli elementi da loro notati se ne possono aggiungere ne aggiungeremo qualche altro allora quando mi ripartì da Circe dice Ulisse né dolcezza di figlio l'avevamo detto poco fa l'aveva letto Alice né dolcezza né dolcezza di figlio nel sentimento capite che con nessun altro sostantivo si poteva descrivere meglio il sentimento del genitore nei confronti dei figli dolcezza quindi né dolcezza di figlio né la pietas del vecchio padre questo atteggiamento di rispetto nei confronti dei genitori per raccoglierne diciamo gli insegnamenti l'eredità quindi né la pietas del vecchio padre né il debito amore che dovea Penelope far lieta quindi l'amore coniugale in altri termini i tre sentimenti più importanti che caratterizzano la vita dell'essere umano quello del figlio del genitore e della compagna o del compagno vinger potero dentro a me l'ardore che io ebbi di divenire del mondo esperto degli vizi umani e del valore vi dice qualcosa diventare del mondo esperto degli vizi umani e del valore quella condizione di cui abbiamo detto poco fa raggiunta dalante nel paradiso terrestre non è questa diventare del mondo esperto degli vizi umani e del valore cioè libero dritto e sano è tuo arbitrio gli dice Ergilio prendi il piacere come guida e tu sei l'imperatore e il papa di te stesso significa diventare del mondo esperto degli vizi umani lo vedete come la prima meta che Ulisse si prefigge è quella meta che Dante raggiunge il personaggio Dante raggiunge nel paradiso terrestre e poi ma misi me per l'alto mare aperto quindi indica questo percorso di conoscenza alto profondo e aperto aperto a tutti gli stimoli con un uomo medievale che ci dica proprio questo è straordinario cioè non dobbiamo chiudere diciamo la nostra mente a niente dobbiamo raccogliere tutti gli stimoli da qualunque parte essi provengano vagliarli farli nostri ovviamente ma senza paura di arrivare a delle conclusioni personali perché non ci sono diceva il mio maestro non ci sono sanduari inviolabili cioè ognuno di noi non deve aver paura di dire qualcosa di proprio se nasce da da un lavoro corretto ed onesto della mente quindi ma misi me per l'alto mare aperto quindi questo viaggio che di Euclisse ci parla è questo viaggio che possiamo dire Dante compie nella prima parte della sua esperienza Dante è personaggio ovviamente della sua esperienza attraversano tutto il Mediterraneo girano per il Mediterraneo io era la compagnia all'inizio era una compagnia dalla quale non fui mai diserto io e i compagni un certo passo del tempo e giungono a un certo punto alla fine giungono davanti alle colonne da Ercole e Ulisse si rivolge ai compagni i quali non sono più compagni adesso se voi prendete il testo diventano frati fratelli si sono affratellati in questo percorso che stanno conviendo che hanno compiuto si sono affratellati frati dissi che per centomiglia per egli siete giunti all'occidente siamo arrivati proprio all'occidente alle porte che immettono poi nell'occidente a questa tanto piccola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente a quel poco che ci rimane da vivere non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente e che vi ricorda questa cosa l'esperienza del mondo senza gente il primo percorso che Dante fa è quello del mondo con la gente il personaggio Dante tanto che arriva poi a potersi relazionare a quell'equilibrio interiore di cui Virgilio gli riferisce in modo che possa relazionarsi in maniera equilibrata con la gente con gli altri invece l'esperienza del mondo senza gente non è l'esperienza dell'altro tipo di conoscenza che il personaggio Dante attuerà c'è la conoscenza delle cose profonde delle essenze quelle che venivano chiamate in filosofia l'essenza delle cose per cui la conoscenza è essenziale è come se Ulisse dicesse non vogliate negare l'esperienza abbiamo fatto questo primo viaggio ci ha portato a una condizione di benessere chiamiamola di felicità che la cultura appunto chiamava la cultura antica diceva bios practicos ma perché negarci adesso l'esperienza del mondo senza la conoscenza la teoria che ci renderà ulteriormente felici e poi c'è quella terzina bellissima che dice considerate la vostra semenza cioè il seme nostro dell'essere umano è proprio rivolto a questo alla conoscenza alla conoscenza sia delle cose diciamo tangibili ma anche delle cose senza gente delle cose essenziali fatti non vostre a vivere come bruti ma per seguirli virtute lo vedete la virtus la virtus cioè il modo con cui ci si relaziona e si diventa esperti dei vizi umani e del valore virtute e canoscenza quindi li sta invitando a fare l'ulteriore percorso quello che Dante farà poi diciamo dal paradiso terrestre in poi e i miei compagni feci io sia aguti tra l'altro questo aggettivo aguti appunta appuntiti rivolti con questa orazione picciola al cammino li feci così aguti al cammino che appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino nel mattino significa io sono convinto che significa proprio va inteso in senso temporale nel mattino i viaggi nel medioevo iniziano sempre al mattino ma i viaggi di Dante iniziano al mattino e non vi ricorda il primo canto tempera del principio del mattino allora lo vedete come la specularità tra i due personaggi tra Ulisse e Dante personaggio si comincia a notare quindi volta la nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo sul volo ci ritorniamo dopo alla fine ma folle nel secondo canto il personaggio dell'inverno il personaggio Dante rivolto a Virgilio lo invita ha paura che la sua venuta cioè il suo tragitto il suo percorso non sia folle usa lo stesso aggettivo folle quindi vedete come lo speculum è sempre più presente sempre acquistando dal lato Mangino tutte le stelle quindi iniziano questa navigazione cioè in altri termini inizia questo percorso di conoscenza essenziale che dura all'incirca cinque mesi cinque volte era acceso e tanto caso la luna lo lume era di sotto della luna poiché entrati eravamo nell'alto passo da quando entrarono in questo alto passo che vi ricorda alto passo primo canto se vi ricordate mi volsi a retro verso 26 mi volsi a retro a rimirarlo passo che non lasciò giammai persona viva quindi anche Dante compie un passo come come Ulisse nel primo canto dice mi volsi a retro a rimirare questo passo sta per passaggio questa passaggio questo passaggio da una condizione a un'altra il personaggio Dante il passaggio lo fa crede di averlo fatto dalla condizione di selva scura alla condizione di dilettoso monte che ora vedremo quindi mi volsi a retro a rimirarlo passo quando mi apparve una montagna scura bruna ma perché al personaggio Dante non appare pure una montagna nel primo canto il dilettoso monte una montagna altissima ma anche a Ulisse appare una montagna altissima solo che al personaggio Dante questa montagna appare illuminata dai raggi del sole c'è qualcuno che gliela illumina ad Ulisse invece appare bruna noi ci allegrammo e tosto però questa allegria tornò in pianto ma perché il personaggio Dante quando dal primo dalla selva scura crede di essere passato proprio nella condizione successiva del dilettoso monte e che però crede perché si illude perché poi si materializzano le fiere e lo riconducono e lo spingono di nuovo verso il basso questo personaggio Dante non dice una cosa analoga qual è colui che volentieri acquista siamo primo canto lo vedete come lo spiego non me sempre qual è colui che volentieri acquista e giugna il tempo che perdere lo faccia e tutti i suoi pensieri in tutti i suoi pensieri piange sattrista quindi anche lui all'inizio è contento come come Ulisse e poi piange che dalla nuova terra un durbo nacque dalla terra da questa montagna altissima si materializza un durbine perché dalla montagna dal dilettoso monte non si materializzano tre fiere lo vedete come la specularità è sempre più presente non si materializzano tre fiere e percorse ad Ulisse del legno il primo canto si leva questo turbine e percuote la prima parte della nave tre volte il fei girare con tutte le acque questo tre a me ricorda le tre fiere le tre fiere che si materializzano a Dante e qui tre volte gira questa nave e la quarta levar la poppa in zuso e la prora ira in giù come altrui piacque in altri termini tutte e due scendono verso il basso mentre chi rovinava in basso loco dirà nel primo canto mentre chi rovinava verso il basso pure lui e Ulisse rovina pure lui verso il basso la prora ira in giù come altrui piacque in vin che il mar fu sovra noi richiuso Dante a Dante stava per richiudersi di nuovo dentro la selva solo che interviene voi sapete bene interviene Virgilio che a sua volta era stato inviato da chi per coloro che l'hanno fatto da Beatrice e quindi non precipita in fondo riesce a risalire ma tutte e due si può dire che avevano vogliono fare un volo il volo di entrambi è un volo come dirà poi nel paradiso un volo sanzale allora chi è che a Dante permetterà di volare quindi di risalire di volare e poi alla fine di volare voi lo sapete chi è che farà volare Dante coloro che hanno iniziato a fare se ci sono ragazzi di ultimo anno il paradiso chi è che lo fa volare Beatrice e lui esplicitamente nel quindicesimo canto del paradiso fa dire a Cacciaguida che è il suo padre diciamo colui che lui elege come padre gli fa dire colei che all'alto volo mi vestì le piume sono le parole di Ulisse solo che Ulisse è naufraga lui invece ha colei che all'alto volo mi vestì le piume e poi presentandola parlando di lei nel venticinquesimo canto dirà quella pia che guidò le piume delle mie ali ha così alto volo quindi ci dice proprio esplicitamente che il volo a lui è consentito grazie a Beatrice a Ulisse non ha consentito perché gli manca Beatrice era stata Beatrice illuminare la montagna Dante quella montagna che rappresenta il percorso tutto il percorso Ulisse non ha diciamo non ha non ha questa questa questo aiuto non ha questo aiuto e allora naufraga allora se Beatrice come abbiamo detto all'inizio poco fa se Beatrice è rappresentazione allegorica non della teologia non della rivelazione ma è rappresentazione di questa sostanza nella quale i filosofi diciamo che postulavano nella quale credevano questa diciamo questa luce dell'indelletto allora qual è il messaggio che l'autore ci sta trasmettendo l'autore Dante attraverso questo episodio speculare al personaggio ci sta dicendo che non come si pensa come solitamente voi trovate nei libri che nel personaggio Ulisse è diciamo è personificata è personificata quella voglia di trasgredire le regole di andare oltre i limiti così come farebbe un pensatore laico un pensatore che non è assistito dalla rivelazione dalla verità confessionale un Dante così è un Dante diciamo censore del pensiero laico contrasta con tutto il Dante invece che noi conosciamo che nel paradiso per esempio Sigiri di Brabante che era uno che aveva detto aveva affermato che l'anima dell'uomo perde la sua individualità nel momento della morte perché ritorna nell'universale una cosa veramente eretica rispetto diciamo alla teologia del tempo questo Sigiri di Brabante non solo lo mette in paradiso ma lo mette accanto a San Dommaso quindi un Dante censore del pensiero è inimmaginabile non si dovrebbe immaginare allora in questo caso invece il messaggio sarebbe questo che se voi volete percorrere questo tregitto della teoria della contemplazione della verità dovete credere in questa sostanza in questa luce che illumina il vostro intelletto perché l'intelletto dell'uomo aveva detto Aristotele è come l'occhio l'occhio per vedere ha bisogno della luce materiale perché senza la luce resterebbe potenzialmente vedente ma perché veda perché diventi attualmente vedente ha bisogno di una luce di questa sostanza che lo illumini allora questo sarebbe il messaggio e perché Dante sentiva questo desiderio prega Virgilio di parlare con Virgilio ritorniamo alle domande iniziali perché c'è questo desiderio e perché si vuole rivedere se abbiamo detto che c'è questa specularità a questo punto del cammino Dante sta crescendo non è più il bambino iniziale quel bambino che piange perché all'inizio poiché la sua mano lo prende Dante lo prende per mano piange ora sta crescendo e si vuole rivedere se si vuole rivedere vuol dire che già è in una fase di crescita per questo prega con tanta intensità Virgilio fammi vedere fammi ti prego fammi parlare cioè fammi rivedere ci adotto e si spiega anche la risposta di Virgilio bravo la tua preghiera è degna di molta lode perché ha capito che quello sta crescendo è degna di molta lode però aggiunge Virgilio ancora non sei maturo a tal punto da guidarti da solo fai parlare a me lasciati guidare da me poi arriverà il momento in cui tu andrai da solo ti indicherai tu la tua strada perché come abbiamo detto tu diventerai Papa Imperatore e Papa di te stesso e obbiderai soltanto alla tua coscienza grazie grazie Grazie.